Ben trovati rati G della mobilità nella zona di San Pietro, al via da oggi lavori su piazza Pia, l'area tra Cassel Sant'Angelo e via della conciliazione. L'avvio del cantiere darà luogo a nuove modifiche sulla viabilità nelle strade di Borgo dopo le prime variazioni che hanno interessato alcune inversioni di senso di marcia a Prati, deviati i percorsi delle linee bus 2340-62, 218-280-982 N3D e N3S e tra il 10 e l'11 agosto è già cambiato il senso di marcia in via Duiglio, via Tiglio-Regolo, via Fabio Massimo, via Terenzio e via Virgilio. È tutto dal Tg della mobilità. Grazie